Ciao a tutti! Per sostenere la nostra campagna Salva uno spettacolo devi compiere pochi e semplici passaggi. Apri un motore di ricerca scelta e digita Pacta. Entra nel nostro sito e clicca il bottone Biglietteria. Scorri fino ad arrivare al bottone Acquista biglietti. Verrete reindirizzati al sito Viva Ticket, pagina di acquisto biglietti online. Scegli lo spettacolo dove avverrà la donazione. Scegli la data di una replica e troverai le tre fasce di prezzo, 4 euro, 8 euro, 16 euro. Puoi creare ulteriori donazioni acquistando più biglietti di fasce di prezzo diverse, a tuo piacere. Se non lo sei già, ricordati di iscriverti alla pagina Viva Ticket per procedere con gli acquisti. Questo progetto fa parte della necessità di creare una rete di supporto al mondo della cultura e dello spettacolo. Acquista un biglietto facendo una donazione. Aiutaci a sostenere il mondo dello spettacolo e, se vuoi, il biglietto sarà valido per venire a vedere lo spettacolo in teatro. Seguici sulle nostre pagine Facebook Pacta dei Teatri Salone Dini e su Instagram Pacta dei Teatri Salone. Non vediamo l'ora di rivedervi a teatro, ma per ora state a casa, ci pensiamo noi a raggiungervi.